Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili a causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra il Bivio per la 12 e il Livorno a Aurelia, presente un chilometro di coda. Un chilometro di coda per incidente in direzione Firenze, tra Empoli Ovest ed Empoli Est, tra La Strassigna e Montelupo Fiorentino per lavori e rallentamenti in entrambe le direzioni. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Dal 9 giugno inoltre 9 treni regionali veloci effettuano fermata anche a Empoli. Tutte le info sui nostri canali social. In A1 rallentamenti in direzione Bologna, tra Calenzano e la variante di Valico per traffico intenso. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!